Grazie a tutti ragazzi, sesta giornata! Siamo tutti, le squadre sono a completo e allora facciamo fare la nostra giugneria! Eccoci Paio, eccoci! Sono Daniela, Daniela, Roberta, Roberta e Stefano! Eccoci la nostra giugneria in generale, grazie ragazzi! E allora, come sapete, è sempre più futuro, sempre più importante, abbiamo bisogno di gente davvero in gama e quindi abbiamo fatto venire ancora una volta il nostro direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, il nostro direttore del seminario di Gravina, eccolo, sapete tutti di chi sto parlando, Don Luzio Quanzicchio! Ora, vedete qualcuno di voi, l'ha già visto dietro le quitte e bene siamo tra noi e se non ci credevo stasera, vedete con i vostri occhi, da bene formare la sua presenza e l'orealine economista verso questo Università di Bari, ma tuo forte e spirito sociale e che nel 2007, versi, è diventato l'assessore all'esporto, all'ultimo, all'ospettato e all'atulismo del nostro comune, lui, Giovanni Savonero! E' doveroso, quindi, il solito e il bocca al lupo della nostra Giulia, il Savonero di Romoli, vorrei dare subito la parola al nostro nuovo giurato, Giovanni Savonero, se vuoi fare un bocca al lupo della squadra, su, vai! Il bocca al lupo della nostra squadra ha aiutato perché sicuramente sarà una serata divertentissima, già vi ha annunciato Don Luzio che la scorsa settimana, due settimane fa, si è andato divertito, Speriamo di continuare su questa volta, grazie a tutti! Mi raccomando, diventiamoci in maniera giusta e mettiamo in partecipi di giurte in questo video che ci guarda il primo rupo della squadra! E' un 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 primo rupo della squadra! Bene, la nostra giuria qui ha fatto il suo numero sul bocca al lupo, Allora concorrenti! Vi auguro anche io buona fortuna! Quindi, vabbè, ci cominciamo subito con il primo gioco! Sapete tutti, su internet, il nostro sito www.peripatetico.it Aveva già inserito le testove di quest'oggi! Allora, la prima prova... Non so se abbiamo una grafica, c'è? No! Quindi, la prima prova di questa sera sarà Guarda chi canta! Allora, la prima squadra pescherà un numero Il numero... Il numero corrisponderà a un video Questo video, ovviamente, è mutuo Voi guarderete tutta la squadra, ovviamente, può parlare e suggerirsi E dovete dire... Dovete dire il titolo esatto della canzone I WANT TO... BLAKFIELD! GRANDRAGINA WELCOME BELCOME? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.